amici sono spavettatissimo sono terrorizzato stanzimando per la paura sono il terrore sulla pelle sto sudando sto scappando sto continuamente girando intorno sto correndo a perdifiato ho paura di inciampare di cascare una visione terrificante mi continuo mi giro continuamente per vedere ho tirato fuori il mio coltello ma cosa ma cosa possa servire un coltello del genere no all'amor di dio aiutami tu voi pensate voi dite un lupo un lupo se peggio peggio del lupo e allora brunetta